Oggi mi trovo qui a San Benedetto, ospiti presso la capitaliera di Porto. Sono venuta a vedere con i miei occhi i risultati ottenuti dal progetto a pesca di plastica che è un'iniziativa partita dal progetto pilota CleanSeal Life che ricordiamo sarà un progetto che ci fornirà tutti quei dettagli e quei risultati che ci saranno utili per migliorare il provvedimento salva mare.